Benvenuta o benvenuto nella meditazione guidata di rilassamento profondo del progetto Kabbalah Yashua, ermetica e pratica meditativa. Prima di tutto ti consiglio di svolgere questa meditazione in una posizione comoda e confortevole. Sdraiati o se preferisci puoi anche sederti, non c'è nessun problema, andrà benissimo ugualmente. Assicurati di essere in un posto che ti metta completamente a tuo agio e soprattutto dove sai che non sarai disturbata o disturbato per i prossimi minuti. Iniziamo. Sei comodamente sdraiata o sdraiato. Le tue braccia poggiano morbide ai lati del corpo. I palmi delle mani sono rivolti verso l'alto. Lascia che le gambe si rilassino e che le punte dei piedi cadano leggermente verso l'esterno. Ora mantieni calmo il corpo ma vigile per tutto il tempo di questa pratica. Non confondere la meditazione col dormire. Quindi ripeti per tre volte questa è una meditazione. Questa è una meditazione. Questa è una meditazione. Non hai nient'altro da fare, dunque rilassati. Fissa un punto nella tua mente o fissa il colore della tua sefira. Chiudi lentamente gli occhi adesso e inizia a respirare profondamente e lentamente. Inspira, trattieni il più possibile. Ed espira, trattieni il più possibile. respira profondamente e lentamente. E concentrati sulla mia voce. Solo sulla mia voce. Sarò io ad accompagnarti in questo tuo viaggio. ripeti nella tua mente quello che ti dico. Sono rilassata. Ho rilassato. Sono rilassata. Ho rilassato. Sono rilassato. Ho rilassato. Senti il corpo andare in basso, sempre più in basso. Senti il tuo rilassamento. Senti il tuo rilassamento. La sensazione di rilassamento profondo ti è molto familiare. Concentrati sul tuo corpo. Le tue braccia appoggiano morbide ai lati del corpo. I palmi delle mani sono rivolti verso l'alto. Lascia che le gambe si rilassino e che le punte dei piedi cadano leggermente verso l'esterno. Ispira, trattieni finché puoi. Ed espira, trattieni finché puoi. Ispirando ed espirando, prendi sempre di più consapevolezza di tutto il tuo corpo. Respirando profondamente, percepisci il tuo corpo. Sorridi con la mente dentro di te. Senti i tuoi piedi dai talloni alla pianta dei tuoi piedi. Senti la parte posteriore delle gambe. Salendo i glutei, la schiena, il dorso delle mani, le braccia, percepisci la parte posteriore del tuo capo. Senti dove è appoggiato e rilassati. Adesso senti dove è appoggiato tutto il tuo corpo e rilassati. Con ogni respiro profondo ti senti affondare sempre di più nel pavimento. Senti che tutte le tensioni e le preoccupazioni ti abbandonano. Lascia andare ogni peso e non trattenere nulla. Ora lasciati affondare sempre di più. sempre più in basso, oltre al suono. Senti che tutto il tuo corpo che affonda e rilassati. Ispirando, percepisci come il tuo addome si solleva. Ispirando, senti come si abbassa. Per alcuni respiri rimani concentrata o concentrato su questo movimento. Ispirando, ora prendi consapevolezza dei tuoi piedi. Ispirando, lascia che si rilassino completamente. Ispirando, invia tutto il tuo calore ai piedi. Ispirando, lascia che le tue gambe si rilassino. Ispirando, lascia andare ogni tensione che potrebbe essere rimasta ancora nelle tue gambe. e lascia che affondino morbide al suolo e ancora più in basso. Ispirando, invia tutto il tuo calore alle gambe. Ispirando, ora prendi consapevolezza delle tue mani. Ispirando. Ispirando, lascia andare ogni tensione che potresti trasmettere ancora nelle tue mani. Ispirando, ora prendi la mano sinistra. Prendi adesso consapevolezza di ogni singolo dito della mano sinistra e della mano destra allo stesso tempo. Il pollice, l'indice, il medio, l'anulare e il mignolo. Senti la consapevolezza di avere due mani forti e lascia che ogni parte delle tue mani si rilassi. Ispirando, ora prendi consapevolezza delle tue braccia. Ispirando, lascia che le braccia si rilassino a fondo. Lasciale riposare completamente. Senti che affondano, sempre più in basso. Ad ogni respiro senti come le tensioni delle tue braccia si dissolvono. Ispirando, invia tutto il tuo calore alle tue braccia e alle tue mani. Ispirando, ora prendi consapevolezza delle tue spalle. Ed ispirando, cedi ogni tensione delle tue spalle. Invia loro la tua energia, il tuo calore e lascia che si rilassino completamente, sempre più in basso. Ispirando, rivolgi adesso la tua attenzione alla tua schiena. Ed ispirando, lascia andare ogni tensione che potresti trattenere ancora nella tua schiena. Ispirando, in via tutto il tuo calore alla tua schiena e alle tue spalle. Ispirando, ora rivolgi la tua attenzione al tuo cuore. Ed ispirando, lascia che il tuo cuore si rilassi. Il tuo cuore ti consente di vivere ed è sempre lì per te, ogni secondo, ogni minuto, ogni ora di ogni giorno. Senti com'è meraviglioso avere un cuore che batte incessantemente il petto. Con ogni respiro percepisci il battito del tuo cuore. Senti com'è meraviglioso. Senti com'è il tuo cuore si rilassa sempre più profondamente. Ispirando, invia tutto il tuo calore al tuo cuore. Ed ispirando, sorridi con immensa gratitudine. Ispirando, sia adesso consapevole del tuo viso. Ed ispirando, lascia che ogni muscolo del tuo viso si rilassi completamente, sempre più in basso. Lascia andare ogni tensione intorno alla tua bocca, ai tuoi occhi e sulla tua fronte. Lascia che i tuoi occhi si rilassino e si riposino profondamente. Ispirando, prendi consapevolezza di tutto il tuo corpo. Ed ispirando, godi della sensazione di rilassamento del tuo corpo, che giace completamente rilassato e tranquillo. Ispirando, invia calore e amore al tuo corpo. Ed ispirando, ringrazialo. Sii consapevole della meravigliosa capacità di autoguarigione che agisce nel tuo corpo. Ma è la tua attenzione amorevole che lo sostiene. Senti gratitudine per ogni piccola parte del tuo corpo. Lascia che il tuo corpo si rilassi ancora più profondamente, sempre più in profondo. La tua attenzione amorevole che lo sostiene. 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 adesso che sei rilassata o rilassato passiamo alla meditazione della tua sefira grazie